Ciao Lorenzo. Siete sempre benvenuti nella nostra farmacia. Grazie. Vorrei che iniziassi questa intervista con il racconto di chi è Alpifarma, della vostra visione di un nuovo concetto di benessere e salute della persona e anche i vostri progetti per il futuro. Siamo una farmacia nata circa dieci anni fa da Lagna Valsese ai piedi del Monterosa. Dalle nostre origini abbiamo preso l'idea per il nome della farmacia online che abbiamo aperto successivamente Alpifarma. Due fattori fondamentali dell'offerta che proponiamo la consapevolezza che nel futuro ci sarà sempre necessità di occuparsi del benessere delle persone e l'attenzione alla sostenibilità verso le persone e l'ambiente in cui viviamo. Tra i progetti per il 2022 sicuramente proseguire con l'upgrade del nostro sito in cui abbiamo migliorato la user experience e ampliare la nostra offerta di prodotti naturali ed eco sostenibili. Ogni giorno nella nostra farmacia diamo consigli ai clienti che vengono da noi e vogliamo avere questo approccio anche con i nostri clienti digitali. Per questo realizziamo articoli che possono essere di supporto. Insomma siete una farmacia storica che si affaccia dal digitale da cui la necessità di spedire i vostri prodotti. Esattamente. L'imballaggio è quindi diventato un elemento importante del vostro business. Un alleato per mantenere la promessa verso i vostri clienti. Siete d'accordo con questa affermazione? Per la nostra farmacia online la qualità del packaging è essenziale in quanto molta della merce che spediamo è contenuta in confezioni fragili che devono essere maneggiate con cura. La stessa cura con cui consigliamo i nostri clienti. Sul fattore imballaggio siamo stati da subito molto esigenti. L'imballaggio è la prima esperienza del cliente. Ormai le persone monitorano le spedizioni, le seguono, le aspettano e spesso con grande desiderio. Immaginate se il prodotto tanto atteso fosse danneggiato. Un'esperienza non positiva che vogliamo evitare. Per questo motivo sono d'accordo nel dire che per la nostra realtà l'imballaggio è un fattore determinante. La collaborazione con Rajah è nata appena avete aperto il vostro sito e-commerce. Abbiamo avuto quindi l'onore di accompagnarvi dall'inizio del vostro progetto. Ci raccontate questo percorso? È vero. Inizialmente utilizzavamo piccole quantità di scatole e pluriball per le nostre prime spedizioni. Con il tempo e la vostra consulenza abbiamo gradualmente ridotto la plastica e da più di tre anni ormai facciamo solo uso di imballaggio in carta. Per agevolare i processi di imballaggio abbiamo installato anche due delle vostre macchine nel nostro magazzino, la Brat Pack e la Pad Pack, che utilizziamo per il riempimento dei vuoti. Tra i progetti che coinvolgono l'imballaggio, due anni fa abbiamo iniziato ad utilizzare il nostro adesivo personalizzato in carta e da allora le nostre spedizioni sono al 100% plastic free. Ora Lorenzo, ti faccio una domanda che in questa rubrica facciamo sempre ai nostri intervistati. Quali sono i vostri prodotti preferiti? Tutti gli imballaggi in carta. Ci hanno sorpreso per la loro efficienza e per la facilità di stoccaggio, oltre al fatto che offrono una qualità e una protezione superiore al pluriball. L'estetica del packaging poi ci piace moltissimo. L'havana è un colore elegante ed è di grande effetto per il cliente quando apre il suo pacco. Oltre alla fornitura di imballaggio, ci sono dei servizi che Raja svolge per voi e che aiutano il vostro business? Con Raja abbiamo personalizzato il nastro adesivo in carta con il logo della nostra farmacia. È un modo elegante per vestire la scatola e per fare branding e al tempo stesso per far capire al cliente che il suo ordine arriva da noi. Un bel modo per veicolare il nostro marchio permettendoci di farci conoscere. Siamo talmente soddisfatti di questo servizio che stiamo valutando di estendere questa personalizzazione ai formati di scatole che utilizziamo di più. Consigliereste Raja perché? Consiglierai Raja per la qualità del servizio che offre ai suoi clienti e per il lavoro impeccabile del nostro referente che si fa in quattro per farci consegnare il tutto il prima possibile. Inoltre scegliamo Raja per la sua attenzione all'ambiente e per la sua ricerca di fornitori che utilizzano carta riciclata o proveniente da filiere controllate e sostenibili. Ok Lorenzo ti ringrazio per averci ospitato. Grazie a te, è stato un piacere.